Io mi voglio collegare con la Camera dei Deputati dove c'è Riccardo Fraccaro, Movimento 5 Stelle. Fraccaro, mi sente? Sì, la sento. Buongiorno. Tutto bene? Insomma. Sì, tutto bene. Tutto bene. Allora, voglio leggervi un tweet di Fraccaro che è interessante perché apriamo così l'intervista. Sbagliato, usare certi toni, ma non cambierà la forza con cui facciamo opposizione. Intervista a Radio 24. Fraccaro, sostanzialmente lei dice che, insomma, nonostante sia convinto dei vostri obiettivi, che si è capito bene anche dal blog del Grillo stamattina, sono provare a invalidare il decreto IMU Banca Italia e chiedere con insistenza e con forza le dimissioni del Presidente Boldrini, effettivamente i suoi colleghi hanno un po' esagerato a alzare i toni, a usare parole grosse, a fare accuse. È così? Ho capito bene? Ci sono stati degli errori di comunicazione. Siamo cittadini, siamo gli stessi che eravamo dieci mesi fa e siamo molto arrabbiati. Siamo molto arrabbiati perché hanno calpestato la Costituzione, hanno smantellato il regolamento della Camera, il funzionamento basilare di una democrazia. Per questo siamo molto arrabbiati. E le nostre proteste credo siano state sacrossante. Alcuni parlamentari hanno avuto delle espressioni eccessive e l'errore più grande è quello di far parlare di questi eccessi e non del contenuto delle nostre proposte, che è veramente importante perché si tratta di garantire un dialogo, un funzionamento della democrazia che è utile al Paese, non è utile al Movimento 5 Stelle. E in queste settimane, in questi giorni, hanno cercato esclusivamente di silenziare l'opposizione, di tagliare la testa, la tagliola, la ghigliottina alle opposizioni. Perché? Perché non le hanno mai conosciute, non sanno come comportarsi, hanno paura delle opposizioni. Scusi, oggi... E tutto questo, solamente tutto questo per regalare 7 miliardi e mezzo alle banche. Questo hanno fatto, hanno preferito violare la Costituzione, violare il regolamento, pur di regalare 7 miliardi e mezzo alle banche. Dica lei se non dovevamo arrabbiarci. Certo, le parole hanno un peso e dobbiamo imparare a utilizzarle forse meglio, ma questo non toglie che la nostra opposizione a queste porcate debba continuare a essere dura e inesale. Però mi perdoni, fraccaro, la situazione che ho io dall'esterno è che dentro al Movimento qualcuno comincia a dire che questo clima non mi piace. Oggi c'è una deputata rastellata che dice alle europee non voterò al Movimento 5 Stelle. Cioè, insomma, è serio quando, insomma, se un parlamentare dice non mi fido dei miei colleghi, c'è un clima che mi spaventa, insomma, qualcosa che vada oltre il problema di toni punto e basta forse c'è. Che ne dice? Io le posso dire le mie sensazioni. Io non ho mai visto il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle così compatto e così forte come in questo momento. E soprattutto siamo cresciuti tantissimo dall'inizio. L'abbiamo visto, gli errori ne faremo, ma saranno sicuramente, come sempre, errori in buona fede. Quando ci arrabbiamo e diciamo una parolaccia di troppo è perché lo sentiamo veramente, perché abbiamo a cuore l'interesse dei cittadini, non perché vogliamo uscire o coprire altre notizie. Questo è il problema. Ovviamente siamo parlamentari, rappresentiamo la nazione e dobbiamo essere all'altezza, ma lo siamo di questo ruolo, perché non è un'espressione sbagliata che ha rovinato questo Paese, non è una comunicazione sbagliata che ha rovinato questo Paese, sono i regali continui che fanno le lobby, sono i regali che continui che fanno le banche, sono dieci mesi che non hanno fatto nulla per i cittadini italiani, non abbiamo discusso una legge di iniziativa parlamentare, non ci hanno fatto discutere, non votare, discutere nessuna nostra proposta. L'accusa che le fanno presso i colleghi di altri partiti, che ho sentito spesso, è che voi non volete discutere, non volete collaborare, nelle commissioni che sono i luoghi dove si può ragionare insieme, lavorare e migliorare le cose, voi vi mettete di traverso, come nel caso della legge elettorale, aveste voi aperto un dialogo col PD sulla legge elettorale, forse non sarebbe stato l'accordo con Berlusconi e tutto quello che ne discende, con presenza alla vostra critica al fatto che non si fa la legge elettorale con un pregiudicato. Scusi, ma non ci si siede a un tavolo con altre forze politiche sulla base di un ricatto, io mi ricordo perfettamente le parole, la prima proposta politica da segretario di Renzi è stata se voi votate le nostre riforme e non è un dialogo, noi restituiamo i soldi ai cittadini, soldi legittimamente presi con il finanziamento pubblico dopo un referendum del 1993. Questo è un ricatto, non è una proposta di dialogo. La nostra proposta di dialogo era depositata in commissione, la loro era chiacchiere e ricatti. Senta Fraccaro, le faccio sentire una cosa, intanto l'audio per fortuna funziona bene, le faccio sentire una serie di dichiarazioni sul Movimento 5 Stelle in cui oggettivamente venite abbastanza criminalizzati. Sentiamola e poi mi dice cosa ne pensa. Chi segue questo blog, chi partecipa a questi sondaggi, non so neanche come chiamarli, non ha interesse a confrontarsi sui contenuti, ma a offendere, a umiliare dal punto di vista sessuale. Quindi questa è una cosa veramente che è inaccettabile, questi sono quasi dei potenziali stupratori. Questi ragazzi pensano di fare una cosa nuova, bella, pulita, pura e non si rendono conto che attaccare quelle cose da piazza dentro il Parlamento significa mimare ciò che avvenne negli anni 20 in Italia e 30 in Germania con esiti che conosciamo. Io sono molto preoccupato dai grilini, mi fanno paura, devo dire la verità, visto che ho un vecchio spirito democratico e ho paura di quelli che urlano in piazza. Ho sempre avuto, mi dovete perdonare, io ho dei parenti tedeschi e abbiamo subito una storia terribile dal 33 in avanti. Quando uno urla io ho paura. Allora, fraccaro, prima Laura Ravetto ci diceva che secondo lei la criminalizzazione vi aiuta, perché si fa parlare tanto di voi, vi mette in mostra che se invece si eliminasse questo elemento della criminalizzazione delle vostre parole verrebbe fuori il fatto che politicamente non avete portato a casa risultati. Che ne pensa? Beh, è molto difficile credere a queste parole. Io ricordo ad esempio sull'Imo, sulla mini-Imo, visto che noi non dialoghiamo con le altre forze politiche che abbiamo proposto, proprio per evitare di far pagare i cittadini anche la mini-Imo, abbiamo proposto di portare e discutere in Parlamento una proposta che veniva dai sindaci del PD, quelli emiliani. L'ho mostrata prima, l'ho mostrata sulle slot machine, l'abbiamo mostrata prima. Esatto. E l'abbiamo portata dicendo che era una proposta del PD, quindi condividendo anche un'eventuale vittoria per tutti i cittadini, anche con una forza politica che noi, ovviamente, con cui non siamo apparentati e contrastiamo in Parlamento. Eravamo disposti a fare questo perché era utile al Paese. Questo, dire che noi siamo terroristi, che vogliamo portare la dittatura, quando abbiamo fatto anche una proposta di legge elettorale proporzionale, mentre sono loro che fanno una proposta di legge, spiccamente maggioritaria, che porta a dare la maggioranza assoluta a Camera e Senato a un partito con il 10% anche, anzi potenzialmente con il 6%, che è una dittatura, perché non esiste in nessun'altra parte del pianeta, nel mondo occidentale, intendo, beh, questo mi sembra paradossale. Senta, le posso chiedere una cosa? Che abbiano paura, questo è evidente. Questo sì, hanno molta paura del Movimento 5 Stelle. Le posso chiedere una cosa, mi scusi. Oggi, tra le tante cose che ho letto sui giornali, c'è un deputato che dice che Casaleggio manda in Parlamento dei suoi esperti che vi gestisce attraverso un sistema che si chiama PNL, Programmazione Neurolinguistica, che confesso la minoranza io non conoscevo, ma pare che sia una sorta di lavaggio del cervello. Ci spiega? Non lo posso spiegare perché non è vero. Io quando, adesso che sto parlando con lei, non mi sono mai confrontato. No, no, io le chiedo una cosa diversa. Perché queste accuse continuano a Casaleggio? Casaleggio comincia a stare stretto a molti, cioè continuamente impone la sua visione. Lei ha riportato l'espressione di una sola persona. Lei ha portato l'espressione di una sola persona. Guardi, le assicuro, le assicuro con massima onestà che il gruppo non è mai stato così unito come in questi giorni. Se ci sono delle voci, dei singoli all'interno del Movimento che è naturale, fisiologico e anche giusto, che la pensano diversamente, noi come sempre li ascoltiamo e dialoghiamo. Ma non è la posizione della stragrande maggioranza del parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ma mai volete espellere Curro, il mio collega in Commissione Bilancio? Chiede Angelo Ruggetti perché volete espellere Curro che è in Commissione Bilancio allora, se la libertà d'opinione è così rispettata dentro il Movimento. Perché in questo caso non si tratta di un'opinione, si tratta di un emendamento che ha presentato in violazione di una legge che non abbiamo scritto noi e quindi ne discutiamo. Questo non significa che vogliamo. Non ho capito che vuol dire violazione di una legge, non ho capito. Vogliamo discutere e chiedere motivazioni per cui ha fatto questo. Non viola nessuna legge, né tantomeno la Costituzione che viene da mangiare. Giacomo, il problema è che l'ha firmato con Forza Italia, è quello il punto. Ho capito bene. Guardi, scusate, ma il problema è che non lo sanno, i parlamentari della maggioranza non lo sanno, ma nella legge di stabilità è vietato per legge fare degli emendamenti, delle modifiche settoriali e localistiche. È vietato per legge, non si possono fare. Loro l'hanno fatto per portare a casa un po' di soldi alle fondazioni e alle lobby di riferimento, cosa che noi abbiamo denunciato. Purrao aveva fatto la stessa cosa. Quindi per lei è quello il errore politico di Purrao. Nobile, nobilissimo. È un errore politico, ma infatti ne discutiamo, io non credo che verrà espulso. Solamente per perrenza ne discutiamo, perché la linea su queste cose e sulla legalità, sulla correttezza, deve essere chiara per tutti. Ne vogliamo solo discutere, non c'è nessuna volontà di espulsione, ne vogliamo solo discutere. La procedura per discutere di questo è quella di presentare, mandare una mail di chiarimenti al capogruppo di riferimento. Allora, scusi, Fraccaro, un'ultima domanda, perché Paola Di Carlo del Corriere voleva chiederle una cosa. Sì, io vorrei ancora chiederle sul punto della legge elettorale che mi sembra fondamentale, visto che si sta parlando delle regole del gioco. Quindi è vero che, come dicono alcuni di voi, bisogna far saltare le regole, ma quella è una regola a cui tutti dovete sottomettervi. Mi chiedo, il fatto di non partecipare, non aver partecipato alla fattura e alla legge elettorale, alla costruzione e alla legge elettorale, vi faccio a dire oggi, ci portiamo un po' avanti, che quella che verrà approvata sarà un golpe? Qualunque essa sia, visto che voi non ci siete, comunque dite che viene fatta... costituzionale, perché è incostituzionale? Tra l'altro è stata discusa in commissione a fare i costituzionali. In che senso è incostituzionale la legge elettorale? Beh, ha vari elementi, adesso se abbiamo tempo glieli spiego. Il primo elemento che spesso non viene sottolineato è che la Costituzione stessa, articolo 77, ultimo coma, prevede che la legge elettorale sia discussa in commissione secondo l'iter normale, perché deve essere comunque oggetto di approfondimento da parte di tutte le forze politiche. Non è stato discusso un emendamento in commissione, quindi non è che noi non abbiamo partecipato, non ci hanno fatto partecipare. Partecipare per l'opposizione... Non l'avete occupata la commissione, come si faceva partecipare? Significa... Non l'avete fatto entrare i desiguali? Scusa, dice Lugetti che la commissione è occupata e non era possibile discutere. Scusi, rispondo. L'abbiamo occupata la notte prima perché volevano discutere gli emendamenti, 300 emendamenti, la notte prima di andare in aula. Cioè di notte, il giorno prima, si vuole discutere gli emendamenti della legge elettorale, che è una delle leggi fondamentali per i cittadini, perché determinerà quali saranno le persone, le donne e gli uomini che rappresenteranno i loro interessi nei prossimi anni, anni difficilissimi per questo Paese. E si discutono gli emendamenti in una notte, il giorno prima di andare in aula. Questo è il vostro modo di discutere? Questa è rispetto... Non l'avete occupata, è un modo di... Però c'è modo e modo. Democrazia? C'è modo e modo. Certo, c'è modo e modo di discutere di notte. C'è modo e modo tranquillo di notte, un modo sereno di notte. No, noi abbiamo... Posso parlare un po' anch'io, visto che stiamo qua a fare tutti, a ascoltare senza possibilità di replica. Sì, scusi. Ha ragione. Anche noi, su alcuni punti, anche noi abbiamo sollevato questa questione. Noi abbiamo chiesto che la Commissione, per esempio, si prendesse più tempo per analizzare con calma tutti gli emendamenti, perché è una riforma fondamentale, quella della legge elettorale, ed è importante che la Commissione abbia il tempo di fare il proprio lavoro in maniera corretta. Quindi io su questo, sul punto, sono d'accordo. Però, quello che dicevo, c'è modo e modo. Noi non è che ci siamo sdraiati in Commissione, che ci siamo messi a urlare, a insultare la Boldrini, a insultare gli altri deputati, a scrivere sul blog, incitare gli stupri. Noi abbiamo sollevato una questione e cercheremo di migliorare la legge elettorale con degli emendamenti, con un dialogo. Perché, se mi posso permettere qua, la democrazia vuol dire questo, vuol dire che uno è consapevole, che se voi avete il 20-25% dell'elettorato e dei voti, vuol dire che c'è un 70-75% che non vi ha votato e con i quali bisogna dialogare e bisogna avere l'umiltà di mettersi in gioco e di capire che bisogna sedersi a un tavolo e parlare, non saltarci sopra ai tavoli. Perché così non si fa il bene del Paese, non si fa il bene nemmeno delle persone che vi hanno votato, perché non si porteranno a casa niente se non questo caos e bloccare i lavori parlamentari come è stato fatto in queste settimane. Rallenta il raggiungimento di risultati, non solo sulla legge elettorale, ma su tantissime altre cose. Allora, ci possono essere delle idee condivisibili e giuste, però non è questo il modo giusto per discutere e per portare a casa dei risultati. Se quello che interessa è portare a casa un risultato, se poi quello che interessa è buttare tutto in cacciara, allora siete stati bravissimi. Però non credo personalmente che questo sia l'interesse del Paese e mi dispiace che ci areniamo e mi dispiace che diamo questo esempio in Europa, perché noi siamo abituati a parlare molto di noi stessi e molto poco di quello che succede fuori. Però anche in vista delle elezioni europee, questi non sono dei begli esempi, non sono delle belle immagini e l'Italia avrebbe bisogno di mandare dei segnali diversi sul percorso di cambiamento che ha voglia di intraprendere. Allora, la critica è chiarissima. In un'etineale di scelta civica dice, insomma, se non mi devi lavorare con gli altri non si va da nessuna parte. Sono d'accordo anche per me se non si lavora assieme non si va da nessuna parte. Sono perfettamente d'accordo. Infatti non stiamo andando da nessuna parte. E non è perché abbiamo occupato la notte, una notte prima di andare in aula con la legge elettorale che poi non ci siamo andati perché è saltata di una settimana che non si va da avanti. è perché la maggioranza non permette il dialogo. Se l'opposizione è dire non sono d'accordo se questa è l'opposizione beh, noi siamo qualcosa di diverso. Io credo che sia giusto nel momento in cui la Costituzione viene violata fare delle proteste significative sia molto importante pacifiche senza insultare nessuno e senza usare violenza ma proteste pacifiche. Questo è la non violenza è la resistenza e la resistenza non violenza è quello in cui noi crediamo quando ci sono dei vulnus così gravi. Voglio dire un'altra cosa tanto per far capire quanto la maggioranza stia dialogando con la minoranza. Questa ghigliottina messa in commissione è stata fatta per andare in aula il 30 gennaio dopodiché in aula non si discuterà della legge elettorale fino a settimana prossima quindi non c'era l'urgenza di andare in aula questa tecnica meschina è stata fatta semplicemente perché in questo modo in aula si andrà con i tempi contingentati tutto questo violare la Costituzione in commissione è stato fatto per non permetterci di andare in aula con i tempi non contingentati ancora una volta per silenziare e tagliare la voce a una maggior una minoranza che è una posizione molto importante di Massimo Cacciari su tutto questo cioè questa incomunicabilità che è stata come dire plastica secondo me scusi però io sono parlamentare dovrei andare anche a lavorare non è per cattivare la discussione è molto interessante se deve andare vada io nel frattempo sento grazie vada a lavorare io sento cosa pensa Massimo Cacciari grazie a presto grazie dell'intervista